L'amore è paziente, chi è che vuol bene non si vanta e non si gonfia, non tiene conto del male ricevuto. La stessa cosa lo dice il Signore per me, per voi tutti, per te Gianluca, anche per te Michela. La persona brava è colui che ride con chi ride e piange con chi piange. Deve esserci il Signore Gesù nella vostra vita. Invitatelo nella vostra casa. Prometo di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di amarti in orati tutti i giorni e la mia vita. Grazie a tutti.